In rappresentanza del Torino Calcio Teodoro Coppola che fa parte di questo progetto Torino Academy. Vogliamo innanzitutto sapere di cosa si tratta? Un progetto, le Academy per noi sono una parte importante che il presidente Cairo ha voluto fortemente dal 2015 e una divulgazione piacevole di qualità che abbiamo esteso a livello nazionale e poi anche a livello internazionale. Questo mi fa piacere. Io ho la direzione tecnica e la responsabilità insieme a una direzione generale del direttore Comi e il direttore Bava ma fondamentalmente, come ho detto questa sera in conferenza, il nostro è un progetto di qualità, di contenuto, di non aspettative, non di illusioni ma di creare veramente un'empatia con allenatori, con famiglie, con ragazzi che possano crescere in un centro benessere importante. Fa specie in modo positivo il fatto che siano due società aderire a questo progetto. Naturalmente i rapporti che noi abbiamo con la società di Gravellona, con la famiglia Donini, sono sempre stati ottimi prima che venisse fuori questa situazione. Quando ci è stato proposto e quindi offerto l'opportunità di poter condividere, nonostante rimanessimo due società ben distinte, ma poter condividere questo progetto abbiamo approfittato per cogliere l'occasione. Da sempre la volontà di Suna è vicino al calcio giovanile. Come avete vissuto questo anno e mezzo, questo anno molto difficile? Sì, noi viviamo soprattutto di settore giovanile, nonostante abbiamo la prima squadra che ormai sono 12 anni che è con noi. Questo singhiozzo tra giocare e non giocare, allenamenti e non allenamenti ci ha un po' influito. Però sinceramente quando abbiamo detto ricominciamo, il campo è aperto, sono corsi tutti ad allenarsi, quindi l'entusiasmo c'è sempre. È un progetto molto interessante. Presidente, come è nato e quali finalità per voi del Gravellona? È nato, diciamo che c'è stato, come l'ha chiamato lui, un fidanzamento di otto mesi, perché noi abbiamo già parlato con il Torino Calcio da un anno fa. Poi chiaramente non abbiamo potuto andare avanti con il discorso per colpa del Covid. Quest'anno c'è stata fatta la proposta di parlare anche con il Suna e allora dopo esserci incontrati e aver visto che tutte e due le società vogliono il bene dei ragazzi, perché alla fine è questo che noi interessa, abbiamo deciso di provare con questa avventura di tre anni e poi vedremo il proseguimento, diciamo. Grazie a tutti. Grazie.